L'illuminismo è una nuova modalità di pensiero insieme a un grande movimento storico-culturale che nasce in Inghilterra con il razionalismo e l'empirismo tra il 1600 e il 1700, ma che si sviluppa in Francia dove assume i suoi connotati distintivi. Il nome illuminismo è la traduzione italiana del francese âge de lumière e rimanda all'idea della luce. La luce è quella della ragione che illumina il buio dell'ignoranza. È un'immagine significativa che sintetizza in maniera efficace lo spirito filosofico dei filosof illuministi. Tale spirito coincide con una visione razionale e materialistica della realtà che rifiuta ogni forma di dogmatismo, cioè la tendenza generale a ritenere inconfutabili idee e principi ereditati dal passato e di conformismo, di adeguamento passivo a consuetudini e tradizioni millenarie. Tutti i fenomeni della vita umana, compresa la religione e tutto lo scibile umano, vengono sottoposti al vaglio o esame della ragione per liberare l'uomo dall'ignoranza e dalla superstizione, migliorare le condizioni generali dell'umanità e favorirne il progresso. Lo strumento attraverso cui l'umanità può emancipare se stessa dal gioco dell'ignoranza, del dogmatismo e del conformismo è la conoscenza. Per questo gli intellettuali illuministi europei sono variamente impegnati nella divulgazione del sapere attraverso forme e strumenti originali e innovativi rispetto al passato. Pensiamo solo all'opera simbolo dell'illuminismo, la monumentale Encyclopedie, i cui ideatori e promotori furono i francesi d'Alembert e d'Iderot. Non a caso l'illuminismo prende corpo in Francia e si diffonde in Europa nel Settecento grazie ai filosofi, gli intellettuali dotati di esprit philosophique, di una mente razionale. L'illuminismo è un movimento ideologico-culturale di respiro europeo. L'espressione âge des Lumières, con cui gli intellettuali francesi identificarono l'età della ragione, diventa in Germania Aufklärung, letteralmente Illuminazione, Chiarimento. In Spagna Illustration, in Inghilterra Enlightenment, in Italia Illuminismo.